Come ampiamente annunciato, l'accordo tra Cina e Santa Sede per la nomina dei Vescovi viene prorogato di altri due anni. L'accordo è segreto, ma per quel che se ne sa resta immutato rispetto all'originale del 2018, malgrado il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, avesse detto che c'erano delle cose da migliorare. Ma sia Parolin sia il Papa dicono che bisogna avere pazienza e comunque seguono la politica dei piccoli passi. Già, ma il problema è in che direzione vanno questi passi. In quattro anni sono stati consagrati appena sei Vescovi sui 42 mancanti. I Vescovi e i preti imprigionati non sono stati liberati e anzi la repressione nei confronti dei cattolici è aumentata e ora è arrivata anche a Hong Kong, dove il Cardinale Zeno è, come sapete, sotto processo e procede a tappe forzate anche la sinizzazione della Chiesa. Insomma, dei passi ci sono stati, ma nella direzione opposta a quella auspicata. Quindi la domanda è, a chi giova questo accordo?